Ha detto che quelle vignette comunque sui musulmani non le erano piaciute. No, io non le erano piaciute. Fosse stato io direttore di un giornale di Satira non le avrei pubblicate perché erano veramente stupide, offensive della religione e non portavano nessun arricchimento a mevese all'intelligenza. Nel momento in cui si minaccia di morte se le pubblichi, allora no, allora entra un altro problema, ma entra la libertà d'espressione, quindi come tale le pubblicho e anche io dico Gesù di Charlier.